Nome. Giulio Collalto. Soprannome. Il pazzo di Limbiate. Numero vittime. 2. Modus operendi. Soffocamento, pedofilia. Giulio Collalto nasce a Roma nel 1953. Viene abbandonato dalla madre a soli tre anni e non conoscerà mai il padre. La sua infanzia è stata molto difficile e segnata solo dalla violenza. È sicuramente il caso più emblematico di disagio infantile. Epilettico e ritardato, viene messo in collegio a Grottaferrata, in provincia di Roma, fino all'età di 14 anni. Si ritiene che proprio in quel collegio Collalto abbia accumulato la rabbia che poi sfogherà sulle proprie vittime. Collalto, in merito al suo periodo nel collegio, dirà, riferendosi ad una suora. Ci costringeva a mettere il viso nei nostri escrementi, ci legava a termosifoni, ci incatenava al letto per farci stare fermi e le botte erano all'ordine del giorno, tanto da lasciarci segni permanenti. La mente del piccolo Giulio viene sconvolta definitivamente, portandolo ad avere un carattere troppo timido e a temere il contatto con gli altri. Quando finalmente lascia Grottaferrata, Giulio ha ormai 14 anni e si trasferisce a Monbello, nell'ospedale psichiatrico in provincia di Milano, dove trascorre due anni prima di fuggire. Ritrovato, a Milano, viene ricoverato in un nosocomio, ma fugge anche da lì. Viene quindi accolto in casa da un commerciante depravato, che lo costrinse a rapporti omosessuali. Nel 1971, Giulio viene ritrovato sporco e affamato in un parco da un altro commerciante, di 50 anni, che decide di aiutarlo, trovandogli un lavoro e una casa. Collalto si affeziona molto a quest'uomo, lo chiama addirittura zio. Collalto è in realtà un uomo turbato, un disadattato che si nasconde dietro un paio di spessi occhiali da miope, che non riesce a relazionarsi con gli altri, che soprattutto non ha amici, che vuole solo stare con i bambini. Ha inoltre una sessualità repressa, è un pedofilo e comincia a tentare approcci coi minori. La sua prima vittima è Roberto Auglia, 10 anni, conosciuto durante uno dei ricoveri in ospedale. Il 10 febbraio 1976, mentre è a casa di Roberto, Collalto cerca di violentare il bambino, che però si oppone e viene soffocato con un cuscino. Collalto viene arrestato grazie alle testimonianze dei vicini, che lo hanno visto salire in casa di Roberto, e soprattutto grazie alla testimonianza della madre del piccolo. Durante il processo, Collalto tenta il suicidio, ma viene comunque condannato a 6 anni di carcere e 3 di casa di cura per omicidio preterintenzionale. Dopo un solo anno viene rimesso in libertà perché ritenuto semifermo di mente, ma non pericoloso. Collalto passa così da un ospedale all'altro, fino a quando viene affidato ad una famiglia di Cremona. 15 agosto 1979. Luca Antonazzi, di 7 anni, viene adescato da Collalto e portato in ospedale in disuso. Nonostante i disperati tentativi di nascondere il corpicino sotto un montacarichi, Giulio viene subito arrestato perché qualcuno aveva sentito le grida del bimbo provenire dall'ospedale in disuso. Collalto viene arrestato e, messo alle strette, confessa. Il 4 dicembre 1981 viene condannato all'ergastolo.